Parliamo del super bonus, però parliamone in termini leggermente diversi rispetto a quello che siamo abituati a vedere, cioè l'aspetto puramente tecnico che ormai si dà abbastanza per conosciuto. Proviamo un po' a esaminare invece qualche cosa di più nascosto perché è passato un messaggio nella comunicazione generale del discorso del super bonus che sembra poter dare a tutti la possibilità di intervenire senza spendere assolutamente una sola lira. Farei attenzione a questo concetto perché non è esattamente così o quantomeno non è così in tutti i singoli casi. Facciamo degli esempi. È proprio sicuro che si possa intervenire sempre e quindi ottenere il super bonus? Il discorso è legato a una valutazione tecnica che passa dalla verifica pre e post di un'APE, cioè di un attestato di prestazione energetica, che deve essere effettuato sulla singola unità se si tratta di una sola abitazione o sul condominio. Per fare questo occorre un'attività tecnica di verifica attraverso misure, rilievi, operazioni sul campo e simulazioni via software che comporta necessariamente una serie di attività che non possono essere ovviamente a costo zero. Queste attività portano alla verifica del raggiungimento delle due classi energetiche di miglioramento. Ecco, se si arriva a ottenere questo raggiungimento di due classi di miglioramento, automaticamente si può poi procedere nell'iter tecnico progettuale operativo per arrivare a definire l'attività operativa che porterà allo sgravio fiscale ed eventualmente al sconto in fattura o cessione del credito di cui si parlerà poi più avanti. A questo punto l'attività è garantita, ma solo è se si arriva a formulare questa verifica del passaggio delle due classi. Supponiamo invece che non ci si arrivi. Significa che purtroppo non accedere al bonus deve comportare una spesa necessariamente sostenuta dai singoli proprietari o singoli condomini a seconda della tipologia dell'edificio che devono mettersi le mani in tasca e tirar fuori quei soldi di tasca d'oro. Quindi c'è la possibilità che non si arrivi a poter ottenere la prosecuzione dell'iter e quindi l'accesso allo sgravio fiscale e contestualmente si debbano tirar fuori dei soldi dalla propria sacoccia. C'è anche un altro caso. Io posso essere arrivato a fare l'intervento, ma posso anche avere delle spese ulteriori che non rientrano nello sgravio del 110%. Faccio un esempio. Sto intervenendo e ora necessitare effettuare qualche lavoro aggiuntivo o in parallelo di tipo manutentivo per realizzare delle opere che mi permettono di arrivare a fare l'isolamento termico piuttosto che il cappotto esterno eccetera. E queste opere non possono rientrare. Per esempio una struttura linea di un tetto nel quale l'isolamento viene ammesso al 110% ma l'operazione sulla struttura magari no. Ecco lì c'è una porzione di intervento che può essere sgravata al 50% e non al 110. Il 50% restante deve essere chiaro che non può essere fatto rientrare in una copertura assoluta ma lo paga il singolo utente. Altra situazione invece e va segnalata è quella delle difformità eventuali. Se ci sono delle difformità nelle parti comuni quelle vanno assolutamente sanate. Diformità significa una differenza fra la situazione dello stato di fatto e la situazione urbanistica edilizia licenziata con delle pratiche o che comunque possa essere garantita come legittima precedentemente all'intervento. Se non c'è questa legittimazione bisogna arrivare a una congruità fra la situazione dello stato di fatto e quella preesistente. Questo può essere fatto solo se ci sono delle variazioni non riportate nelle pratiche precedenti attraverso una sanatoria che implica tutta una serie di azioni tecniche e il pagamento di un'oblazione. È evidente che se lo stato è d'accordo ad intervenire con un contributo che permetta di migliorare il rendimento energetico degli edifici certamente non è disposto a intervenire per sanare situazioni che non sono come dire legali e che competono esclusivamente all'intervento economico dell'utente. Quindi solo per fare una sintesi velocissima abbiamo visto alcune situazioni e senza parlare di altre che potrebbero essere per esempio nelle abitazioni singole, in abitazioni a due piani fuori terra, ci sono numerosi casi che possono essere richiamati come case histories, in quei casi si dovrebbe addirittura magari intervenire precedentemente con atti notarili che modifichino la situazione dell'edificio per poter arrivenire alla richiesta del 110. Quindi prima di dire non mi costa nulla bisogna verificare attentamente che si entri in quei casi in cui il costo nulla è davvero garantito. Nell'eventualità che abbiate dei dubbi non esitate a contattarci e richiederci un'eventuale consulenza tecnica.